Errore nei dialoghi frequentissimo fra gli scrittori esortienti numero 3, il dialogo che dice troppo. Ciao a tutti da Livio Gambarini di Rotte Narrative, realtà di formazione per aspiranti autori professionisti. Benvenuti a questo terzo video della rubrica degli errori più frequenti, più ricorrenti nelle penne degli aspiranti autori e che ahimè vanno a colpire come un colpo d'accetta la credibilità dei loro dialoghi, condannandoli a un esito assolutamente deludente con appunto i loro dialoghi. Vediamolo, vediamolo, vediamolo. Questo qua, quello dell'eccesso informativo di una battuta o di uno scambio di dialoghi, è probabilmente quello che più a lungo, più frequentemente e in una più vasta pluralità di modi va a intaccare la qualità dei dialoghi di chi non abbia ancora padroneggiato bene gli strumenti della buona scrittura. Come fa però, in che modo si manifesta questa bruttura? Vediamolo in questa realtà, in questa verità scomoda di oggi. Allora, si parla di eccesso espositivo all'interno di un dialogo quando le battute sono, diciamo, contengono delle informazioni, sono in qualche modo e per qualche motivo sovraccarichi di informazioni. Questo può significare in molti casi che la battuta, le varie battute, contengono troppe informazioni, cioè un troppo, come dire, quantitativo. C'è un eccesso, un valore, il lettore ne assorbirebbe fino a una certa quantità in modo tranquillo, senza alcuna difficoltà, ma quel valore di soglia viene superato e il dialogo continua a distribuire informazioni al lettore che a un certo punto non ne può più e dice, ma dai, ma come parlano? Questi si stanno raccontando 357 cose diverse in questo scambio. Sovraccarico. Questo è proprio un problema di farcitura. Si buttano dentro troppe cose all'interno di un dialogo. E questo è un errore abbastanza frequente. Non per niente, uno dei consigli che più di frequente vengono dati dagli insegnanti di narrativa è asciuga, stringi di soltanto l'essenziale, cerca quali sono le cose essenziali e concentrati su quelle. Ma non è quello il problema, l'unico problema o forse il peggiore. Il peggiore è quando le informazioni che vengono date nei dialoghi non sono necessariamente superflue, magari sono fondamentali, magari sono importanti, magari sono strutturali, nel senso che quelle informazioni sono necessarie da far arrivare ai lettori per permettere loro di capire la progressione della storia, ma quel dialogo non ha le caratteristiche per poterle contenere in un modo armonioso. E questa è probabilmente la casistica più fastidiosa da vedere accadere sulla pagina. Informazioni di questo tipo, informazioni fuori luogo, informazioni magari importanti, ma che non hanno ragione di trovarsi lì all'interno di quei dialoghi, sono per i lettori motivo di straniamento quando le si legge, a meno che un lettore non sia o estremamente giovane, o estremamente di buon umore, o estremamente ben disposto nei confronti dello scrittore, cosa che nella maggior parte dei casi voi non potrete beneficiare, allora il risultato sarà fargli dire cosa, perché stanno dicendo questo, e le circostanze possono essere tante, quindi sono quando le informazioni che vengono date all'interno di un dialogo sono fuori luogo perché l'interlocutore le conosce già. È il famosissimo caso del As You Know Bob, addirittura un'etichetta, questa situazione, questa frequentissima tara della scrittura che appunto le hanno dato un nome, As You Know Bob, cioè come sai Bob, questo, questo e quest'altro eccetera, e Bob risponde, certo che lo so Mike, e infatti bla 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 bla, eh sì Bob hai proprio ragione, questo è proprio l'archetipo del dialogo espositivo di bassissima lega, è un vero e proprio errore, è ormai così famoso come errore, che gli stessi lettori, cioè non per forza gli addetti ai lavori, non stiamo parlando di editor, di formatori, no, gli stessi lettori ormai tendono ad accorgersene con una certa facilità e nonostante questo molti autori o aspiranti tali ancora incappano in questo tipo di problema. Ma non è soltanto l'As You Know Bob di cui abbiamo già parlato tante volte qua sul canale, se avete, se volete approfondirli andate a cercarli, andate a cercarlo sul canale, cercate dialoghi sul canale, in questi giorni vi ricordo che stiamo producendo un sacco di contenuti, un sacco di materiali a proposito dei dialoghi, perché di cose da dire ce ne sono tantissime e sicuramente non ci fermeremo. Qui vi lascio il link in descrizione per le nostre attività, per questi, su questo argomento, per questa sequenza, però appunto, dicevo, l'As You Know Bob è forse il più famoso, ma non è l'unico, non è l'unica problematica connessa a la quantità e la collocazione delle informazioni all'interno delle battute di dialogo. Dialoghi troppo espositivi che, diciamo, peccano, che diventano, che infrangono sotto questo versante, possono anche essere dialoghi in cui magari i due personaggi effettivamente, cioè uno dei due personaggi è a conoscenza di un'informazione che l'altro personaggio non conosce. Quindi non si tratta di As You Know Bob, che è quel tipico dialogo in cui entrambi conoscono quelle informazioni e quelle informazioni vengono date unicamente al lettore, cioè vengono fatte emergere sulla pagina soltanto a beneficio del lettore, che appunto è super scamo. Ma non è l'unico modo. A volte uno dei due spiega all'altro una cosa che l'altro dice, ah, ok, va bene, grazie, ma in realtà quell'informazione non è giustificata dal contesto. Perché gliela sta raccontando? Perché è una certa battuta, una certa frase? A volte sono singole frasi all'interno di un flusso di argomenti e quelli sono anche più difficili da riconoscere per noi che le scriviamo, per noi scrittori, e possono creare dei grossi guai, cioè perché invece noi magari conosciamo l'impianto informativo completamente, i lettori no, magari stanno seguendo un filo logico all'interno del dialogo e nel mezzo, bam, è lì conficcata una frase che non ha nessuna attinenza col discorso. Eh, ma io l'ho messa lì perché poi la pagina dopo mi serviva per fargli dire quest'altra cosa. Sì, ho capito, ma non doveva starci in prima istanza lì quella frase. Tutte le battute di dialogo dovrebbero essere, le informazioni presenti all'interno delle battute dei vostri dialoghi dovrebbero sempre essere ancorate o al loro contesto, quindi al dove, il quando sta avendo luogo il dialogo, oppure devono far parte di un flusso logico, devono avere una rilevanza almeno per uno dei due personaggi, una rilevanza emotiva, psicologica o cognitiva, o devono essere, deve esserci un perché dicono quelle cose, e dovrebbe esserci un perché alle reazioni di chi sente determinate informazioni. Cosa fate voi quando qualcuno vi inizia a parlare di informazioni che a vostro modo di vedere sono fuori luogo e non vi interessano e non c'entrano con quello che state facendo e questo parte per la tangente, vi racconta i fatti suoi, vi racconta delle altre cose. Magari per lui quelle cose sono importantissime, magari nella sua testa hanno un'attinenza, nella vostra non ce l'hanno e cosa succede? E succede che smettete di ascoltarlo. E' questo che succede anche ai lettori, in queste circostanze, sia con l'Asio Nobob, sia con gli infodump camuffati da dialogo, sia con elementi informativi irrilevanti per il contesto. Quello che succede nella testa delle lettori, sono tutti lo stessa categoria di problemi. Quello che accade nella testa dei lettori è che i lettori si dissociano, non vedono perché quella cosa abbia rilevanza. Alcuni potrebbero dirsi, qua c'è un problema di flusso informativo all'interno del testo che sto leggendo, dentro questa battuta. Ma saranno una minoranza assoluta, saranno i vostri beta lettori, che sono a loro volta scrittori, perché sono studenti di rotte narrative, ma a parte loro. I lettori invece, quello che succederà sarà che vedranno questo blocco di informazioni asincrone, queste informazioni buttate lì così, e probabilmente diranno, ma questa roba cosa mi serve? E non ci presteranno attenzione se la dimenticheranno. E questo è il modo in cui solitamente si manifesta la mancata comprensione dei principi di scrittura da parte di chi magari sappia che esiste un errore e pur di non commettere quell'errore, prova a girarlo e ne commette un altro. Succede spessissimo. Non so se ve lo ricordate, un po' di anni fa questa cosa accadeva sempre. È successo prima, intorno agli anni dieci, prima che io iniziassi a pubblicare i miei romanzi, stavo ancora studiando, ha iniziato a, diciamo, esserci a circolare, hanno iniziato a circolare le prime nozioni di narratologia sul web, sulla rete, hanno iniziato ad esserci le prime stroncature a romanzi strutturati male, eccetera, eccetera, utilizzando appunto dei concetti narratologici anche corretti, non sempre, ma anche corretti, e quindi ha iniziato a essere, in alcuni casi, c'erano anche proprio delle stroncature feroci e quindi ci sono state molte circostanze in cui le persone avevano paura di sbagliare, di fare l'infodump, e questa cosa dell'infodump, il blocco di informazioni tutte insieme sul test ha iniziato ad essere una specie di spauracchio, no? E quindi si vedevano in giro queste discussioni nei forum, si diceva, no, c'è l'infodump, stai facendo l'infodump? E allora, io me la ricordo questa scena qua, anche a me una volta è stata spiegata in questo modo qua, e dicevo, ma cos'è l'infodump? Io non la conoscevo ancora bene come cosa, ero agli inizi, molto prima di iniziare a pubblicare i miei romanzi, e mi fanno, sì, l'infodump è questo e quest'altro, è quando butti uno spiegone all'interno del testo e perché così poi il lettore sa quella cosa e puoi andare avanti, ma è sbagliato, ma ti dico io come fare a evitare l'infodump? Mettilo dentro il dialogo. Tipo, no, non è una soluzione. Già all'epoca mi sembrava un po' strana questa proposta che mi facevano. Poi nel tempo ho studiato, ho capito, sono arrivato ai concetti, ai principi, e no, assolutamente no, non basta infilare un infodump dentro un dialogo per farlo cessare di essere un infodump. Bisogna trovare il modo di orchestrare le informazioni informazioni in modo che siano sempre rilevanti per il contesto di cui si sta leggendo e se stiamo parlando di dialoghi come nel nostro caso, per i personaggi che stanno parlando. Ma per poterlo fare bene bisogna capire quali sono le regole che sottendono, che sottostanno alla costruzione di buoni dialoghi, anche sotto il profilo informativo, che è una delle funzioni più importanti che i dialoghi assolvono all'interno della prosa. È una questione super importante, non si può non sapere. Per favore fate, fate molta attenzione, ragazzi, alle informazioni che mettete nei vostri dialoghi. I vostri dialoghi non sono delle carriole, non si prestano a gettarci dentro una quantità gigantesca di informazioni, perché tanto poi basta, c'è la ruota che scarica il peso e basta tirar su il manico, i due manici, per trasportare queste informazioni fino in faccia al lettore. Non è così che funziona, non è così che si funziona. Gli infodump che stiano in prosa, che stiano in dialogo, in battuta, non cambia niente, sempre infodump sono. Dovete capire come si fa a sciogliere le informazioni dentro la prosa, in modo che smettano di essere decontestualizzate, in modo che smettano di essere un qualcosa che fa aggrottare le sopracciglia dei lettori, li fa saltare, gli fa addirittura saltare quelle informazioni. Tremendo, voi pensate di aver scritto una cosa che poi vi torna utile più avanti, invece dove l'avete piazzata era così fuori contesto, sbagliata o troppo lunga o posizionata male, che il lettore quando l'ha vista lì l'ha saltata perché voleva passare a quando tornava a essere rilevante quello che avevate scritto. Tremendo, non fatelo agli occhi di chi un minimo sia esigente in termini di prosa, i dialoghi infarciti di informazioni e con informazioni fuori contesto, non rilevanti, sono fra gli errori, veramente i peccati capitali che non potete proprio permettervi di compiere. Ci fermiamo qui per questa, per questa pillola di verità scomode, al prossimo video. Mi raccomando, state in campana. Grazie.